Di seguito alcuni suggerimenti per l'utilizzo della bilancia in vetro GS51 di Boehrer. Attenersi alle istruzioni per l'uso e alle avvertenze di sicurezza. Inserire le batterie in dotazione. Tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi. Impostare l'ora con i tasti freccia. Confermare con SET. Per commutare l'unità di temperatura, premere il pulsante GIU. L'impostazione di base è gradi Celsius. Se necessario, commutare l'unità di peso. Posizionare la bilancia GS51 su una base piana e stabile. La misurazione inizia immediatamente una volta saliti sulla bilancia. Viene visualizzato il peso. Dopo 10 secondi, la bilancia si spegne automaticamente. Vi auguriamo ottimi risultati con la bilancia in vetro GS51 di Boehrer. Restate sani!